E' con vero piacere che oggi intervistiamo un vero e proprio mito della musica italiana e internazionale. Edoardo Venello, benvenuto Edoardo Maestro. Grazie, grazie. Ecco, siamo in una scuola di canto, di musica che si chiama Sotto i raggi del sol, ma non è tutta. No, questa è la seconda scuola, io ne ho una in centro, questa invece è un quartiere molto popolare, San Basilio, esattamente in località, la Torraccia. E sono molto fiero di questa scuola proprio perché è stata accolta intanto con grande entusiasmo da tutta la popolazione. Ed è poi una scommessa perché l'intento è quello di avvicinare i ragazzi alla musica, magari a volte non hanno luoghi dove aggregarsi e quindi la loro vita la trascorrono in strada, invece qui hanno la possibilità di venire a suonare, di venire a imparare la musica, venire ad ascoltare gli eventi che noi organizziamo ogni settimana, eventi nei quali parliamo, raccontiamo cos'è la musica, cos'è la storia della musica italiana. Maestro, è importante per un personaggio come te, insomma, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi, ricordiamo, nella sua carriera importantissima in tutto il mondo, venire in questi contesti anche per rappresentare un po' la... vedere i ragazzi che vedono un personaggio come te, ecco, come rispondono? Beh, io intanto credo che dovrebbe essere doveroso offrire agli altri la tua esperienza perché se uno come me, che ha lavorato da quasi 60 anni, ha accumulato una serie di esperienze e di informazioni e poi non le vuole trasmettere agli altri, significa sprecare tutto quello che è stato fatto. Mi piace soprattutto farlo con dei ragazzi in un luogo dove non ci sono strutture, per cui, ecco, perché spesso poi vivono in strada o nei bar. Avendo a disposizione un luogo dove si fa la musica, e la musica veramente insegna a vivere, è un fatto culturale molto importante, va benissimo per questi ragazzi. Infatti hanno risposto con grande entusiasmo. E poi, maestro, questa è la seconda accademia di musica perché ce n'è un'altra, no? Sì, ne ho aperta una l'anno scorso, così per prova molto piccolina e ho visto che anche lì, che poi è la zona dove abito io, a Corso Trieste, ho visto che c'era interesse, anche se lì ce ne sono tante altre. Però io ho puntato ovviamente sulla qualità, su insegnanti di alto livello e le cose stanno andando bene. Adesso ho voluto fare questo tentativo in periferia, ne sono molto convinto e soddisfatto e spero di farne altre. Ecco, maestro, tra le cose che tu sei romano e ami Roma, immagino, moltissimo. Eh beh. Ecco, tra le cose meno conosciute, se possiamo usare questo tipo di accezione, c'è la tua passione per Roma, per i monumenti e per le fontane in particolare. Tu hai fatto un libro, mi ricordo, ci siamo incontrati lo scorso anno, quando mi hai parlato appunto di questo libro sul suono delle fontane romane. Ecco, vogliamo raccontare perché le fontane romane suonano come un po' tutte, credo, le grandi fontane monumentali o anche altre? Beh, il suono, perché ogni fontana ha un suo suono. Dipende ovviamente dal luogo in cui si trova, dalla portata dell'acqua, dal numero di cannelle dalle quali scaturisce l'acqua. Quindi ogni fontana uno la può anche riconoscere ad orecchio. Bene, io ho voluto aggiungere a questo suono naturale dell'acqua delle sinfonie di alcuni musicisti che hanno scritto apposta per me delle musiche e ho creato questa opera, appunto, il suono delle fontane di Roma, che poi vado raccontando in giro. Io ho fatto diversi incontri nelle scuole, soprattutto di periferia, con i licei, tra l'altro molto preoccupato perché mi dicono che, insomma, sono abbastanza irrequieti i ragazzi. Invece devo dire che hanno ascoltato con grande passione. Ho fatto diversi musei a Roma, centri anziani, e ho visto che poi se le cose gliele presenti, in un certo modo gliele fai vedere con un'ottica diversa da quella a quale sono abituato, perché spesso si vedono dei documentari sulle cose. Invece io ho creato delle emozioni attraverso la musica, cioè vi faccio raccontare queste fontane dalla musica e dal suono naturale dell'acqua. E questa cosa ha destato molto, molto interesse e per cui poi, siccome è un hobby, lo faccio con grande gioia. Ecco, ci interessa proprio il processo creativo, ma tu passavi magari davanti a una fontana in particolare. Ecco, la nostra televisione, il nostro telegiornale è fortemente connotato a Roma e alla Romanità. Passavi davanti a una fontana e sei rimasto affascinato. Puoi dare qualche consiglio su un breve tour delle fontane di Roma? Vabbè, non è proprio così. Da ragazzino diciamo che la fontana è il monumento che mi ha colpito di più, perché è l'unico monumento che si muove. Mentre gli altri sono statici, la fontana cambia in continuazione e poi ha un suono. Naturalmente, quando ero ragazzino, ero solo affascinato da queste fontane, però non pensavo che poi nel corso della mia vita ne avrei fatto anche uno studio. Intorno ai vent'anni ho pensato di volerle fotografare, volerle cercare, archiviare in un certo senso, però poi la carriera mi ha travolto e quindi questa cosa è rimasta soltanto un progetto e niente. Quando ho cominciato un po' a rallentare la mia attività e avere più tempo libero, invece ho, e questo da 15-20 anni, ho cominciato a girare e a cercarle. Prima ho fatto un lavoro sulla carta, cioè attraverso i libri ho cercato di capire dove stavano, le ho raggruppate rioni per rioni, e ho fatto una sorta di censimento. Ho fatto questo censimento che è arrivato a 5.000 fontane. Ho fatto questo censimento e ho cominciato a fotografarle, facendo rione per rione, quartiere per quartiere. Ne ho fotografate 3.560, fino a questo momento, e ho creato questo grande archivio fotografico. Solo che la fotografia mi ferma la fontana, perché il fatto che a me piacesse è proprio perché si muoveva. Allora ho fatto anche dei filmatici per poter mantenere il movimento e lì l'ho arricchito appunto con le musiche di grandi compositori, non mettendo mai le musiche mie, proprio perché volevo che fosse una cosa completamente a parte. E ho realizzato questo DVD di cui tu parlavi, abbinato al libro ovviamente che poi spiega e racconta queste fontane, e uso questo DVD per andare a fare le mie conferenze, perché faccio vedere queste immagini. E la grande sorpresa di tutti è di scoprire fontane che pur conoscendole non erano mai state osservate con la giusta attenzione. Una su tutte. Quella che chiamiamo più di tutti è la fontana delle tartarughe, che sta a Piazza Mattei, quella è la più raffinata, la più elegante, e la più nascosta anche. Perché diciamo che le fontane, quelle famose tipo fontane di Trevi, o le fontane di Piazza Navona, quelle sono di tutti, sono dell'umanità. Mentre le fontane che a me mi colpiscono di più sono quelle che non mi aspetto, quelle che stanno in un vicolo, che stanno in un portone, in un parco. E allora la mia ricerca si è soprattutto rivolta a questo tipo di fontane. Maestro, ci sono tanti giovani che stanno vendo questa intervista e che vogliono fare anche il tuo mestiere da grandi. Tu hai una carriera di quasi, l'hai detto prima, di quasi 60 anni di carriera. Con oltre 50 milioni di dischi, penso che il maestro Vianello si colochi tra i primi cantanti che hanno venduto di più nella storia della discografia italiana. Maestro, ma come si riesce a vivere e sopravvivere per 60 anni in questo ambiente, insomma, che non è semplice? Beh, io ho avuto la fortuna di cominciare in un momento molto favorevole, cioè nel momento in cui stava nascendo la canzone italiana moderna, perché fino agli anni 60 la canzone era ferma a delle melodie molto romantiche, molto statiche, molto banali a volte, belle, spesso belle da un punto di vista musicali, ma erano un po' tutte simili tra loro, cioè non c'erano delle pazzie dentro quelle canzoni. Gli anni 60 invece hanno, con l'avvento dei cantatori, gli anni 60 hanno permesso alla musica italiana di rinnovarsi e merito tantissimo dei grandi cantautori genovesi, da Paoli a Bindi, Tenko e via dicendo, a Gabber, soprattutto Modugno, che è stato il trascinatore di questo nuovo modo di fare canzoni. Io mi sono collocato come una sorta di rompiscato in mezzo a tutti questi cantautori impegnati facendo un genere completamente diverso che però nel tempo ha avuto la sua riscossa perché le mie canzoni che sembravano banali poi invece si sono risultate essere molto gradite anche da nuove generazioni. Quindi grazie a questo intuito che ho avuto negli anni 60 ho potuto, coltivando e facendo con serietà questo lavoro, arrivare a 60 anni di carriera. Quando dicevi Modugno ti sono brillati gli occhi. Io un po' mi sono documentato su di te. Te quando eri ragazzo, uno dei tuoi primi successi era un'interpretazione di una canzone di Modugno, vero? Sì, sì, io ho cominciato cantando, perché io ancora non scrivo canzoni, ho cominciato cantando le canzoni di Modugno. Modugno è stato un innovatore incredibile, era un artista straordinario che sapeva veramente conquistare qualsiasi folla, era carismatico al massimo, era il vero istrione da polcoscenico, per cui io penso che se ho cominciato a cantare è perché sulla scena è arrivato uno come Modugno che ci ha fatto capire che non serviva avere una bella voce, ma l'importante era dire delle cose originali, delle cose curiose che attirassero l'attenzione della gente. Combacia il successo delle tue canzoni con una canzone in particolare che hai nel cuore, oppure la tua canzone magari si colloca al di fuori dei best seller che ci sono stati nella tua vita? Ma questo dipende dalle circostanze, a volte mi piace di più ricordare che ho scritto una certa canzone, altre volte un'altra, perché ovviamente ogni volta che ho scritto una canzone ero convinto nel momento in cui l'ho fatta di aver fatto un cavolavoro, per cui se no non l'avrei manco proposta, quindi non ci sono canzoni che ho fatto tanto per fare, cioè quelle che ho fatto tanto per fare non le ho nemmeno proposte, per cui ad ognuna di queste canzoni è legato un ricordo, una soddisfazione, un successo, e quindi sicuramente posso dirti che sono più attaccato alle mie canzoni allegre perché costituiscono un repertorio raro, perché canzoni melodiche le fanno tutti, e invece essersi specializzati, un tipo di canzone ironica, divertente, legata ai balli e via dicendo, e essere riuscito a tenerle a galla per tanti anni mi dà tanta soddisfazione, quindi amo di più sicuramente le mie canzoni allegre. La ballata mi ricordo per un'estate intera e più. Beh, se è una cosa fatta bene, ovviamente sono molto contento, a volte hanno fatto delle cose un po' approssimative, l'operazione quella di Brusco riguardo a Brondadissima era molto intelligente, molto divertente, quindi quando me l'ha fatta ascoltare ho dato il mio parere positivo al volo. Allora, le fontane di Roma, dico le cose meno conosciute, questa bellissima esperienza delle accademie di canto che troviamo sia in zone centrali sia in periferia, cosa vuole ancora dalla vita Edoardo Canello? Campare. Avere il tempo di fare tante altre cose. Io quando ho festeggiato i miei 75 anni l'anno scorso, quindi tre quarti di secolo, ho detto questa frase che ero contento di aver fatto tre quarti di secolo anche se credo di non aver fatto abbastanza. Mi dispiace che mi sia rimasto un solo quarto di secolo per fare tutto quello che voglio fare. Ci sarà sicuramente, maestro. Ecco, a questo proposito, tu hai fatto tante canzoni, hai interpretato tante canzoni scritte dal maestro Franco Califano che quasi un anno fa è venuto a mancare. Sappiamo che lo hai ricordato diverse volte in diverse occasioni. Ce lo vuoi ricordare anche a noi un ricordo per Franco Califano? Franco è stato intanto un mio carissimo amico soprattutto nei primi anni in cui ci siamo conosciuti. Noi siamo conosciuti 50 anni fa esattamente e diciamo che abbiamo vissuto dieci anni intensi come amici, come collaboratori. La prima canzone che lui ha scritto in vita sua l'ha scritta insieme a me da molto lontano. È stato con lui che io ho fatto la mia casa discografica, l'Apollo, con la quale abbiamo lanciato i ricchi e poveri. Avevamo sotto contratto Renato Zero, Medeo Minghi, eravamo partiti con una bella etichetta e abbiamo quindi lavorato tantissimo. Poi, sempre grazie a Franco, sono nati Vianella e lui ha scritto la maggior parte dei testi e naturalmente Vianella sono stati un fatto molto importante della mia carriera e quindi il legame con Franco è stato grandissimo soprattutto perché ci sono stati questi dieci anni di collaborazione intensissimi. E' chiaro che quando lui poi si è messo a cantare ci siamo un po' persi di vista perché ovviamente ognuno pensava alla propria carriera. Però diciamo che ultimamente ci eravamo rivisti spesso e non immaginavo che finisse così all'improvviso. Maestro, l'intervista si sta chiudendo. C'è qualche progetto futuro che ci vuoi anticipare? Viacerebbe, eh? Eh, sì. Ti posso solo dire che succederà qualcosa. Il 23 marzo. Ok. Grazie, maestro. Grazie.